Questa mattina Massimiliano Alberghini, affiancato dai rappresentanti delle liste che lo hanno sostenuto in questa campagna elettorale, ha sottoscritto l'impegno nei confronti dei cittadini a rispettare le tempistiche di realizzazione degli obiettivi che ha indicato nel suo cronoprogramma. Interventi in campo di sicurezza, legalità, turismo e cultura, forese e centro storico, che il candidato sindaco ha suddiviso in base a ciò che riuscirà a fare in 30 giorni, primi 3 mesi, 6 mesi, entro il primo anno di mandato, fino ad arrivare al 2021. Beh, intanto credo che sia una novità assoluta, ma credo che sia anche giusto che gli elettori sappiano quali sono le tempistiche con le quali noi ci impegniamo, tempistiche minime e massime, con le quali ci impegniamo a portare avanti il nostro programma, che lo ribadisco, c'è, abbiamo idee precise, abbiamo idee concrete, per cui noi il programma ce l'abbiamo. Qui in questo punto ci sono quello che noi faremo nei primi giorni, sicuramente ordinanze anti-degrado, anti-abusivismo commerciale, insomma tutte le cose più urgenti, istituiremo sicuramente l'assessorato di cui abbiamo più volte parlato, legalità, anti-trasparenza, poi altro, qui in questo programma sono segnate le tempistiche con le quali noi attueremo dai primi 30 giorni fino alle cose chiaramente più lunghe, che richiederanno l'intero quinquennio, poi nel programma dettagliato ci sono previsti tempi minimi e massimi, è chiaro che noi fino a che non avremo le chiavi dell'amministrazione comunale in mano, non sapremo esattamente, per quello abbiamo messo un tempo minimo e massimo, perché non sapremo esattamente cosa troviamo, possiamo immaginare che sia da dentro che fuori dell'amministrazione comunale potremmo anche avere qualche bastone tra le ruote, ma noi con questo impegno confidiamo di portarlo, siamo certi di riuscire a rispettarlo e faremo lì tutto per riuscire a rispettarlo.